grande grande lucia prima vittoria in un master 1000 e top 100 raggiunta quindi come avete letto dalla copertina del video insomma e dal dal titolo dalla scritta obiettivo raggiunto perché comunque già la top 100 già la top 100 è un grande obiettivo e su questa strada continuando su questa strada si possono fare delle belle cose insomma poi diciamo che comunque oggi ha incontrato una giocatrice che che è molto instabile aila tom lianovic che è capace di di alti e bassi clamorosi cioè è arrivata veramente a tanto così era in vantaggio 5 a 2 nel tie break del secondo parziale ha avuto un match point gioca contratta non ammazza la partita e si fa rimontare e non è la prima volta che succede però bravissima lucia bronzetti in quei punti lì soprattutto a tenere bene di testa e ad aggredire l'avversaria quindi grandissima ben ritrovati a tutti in questo nuovo video iscrivetevi campanella mi piace ditemi la vostra qui sotto nei commenti ovviamente da wta di miami qualcuno magari se la sarà persa questa cosa però lucia bronzetti aveva comunque perso nelle qualificazioni quindi non si era qualificata al tabellone principale solo che poi come spesso accade c'è qualche ripescaggio qualche ritiro e quindi qualche ripescaggio e viene appunto inserita nel tabellone principale e se la gioca contro aila tom lianovic la vincente di questo match avrebbe poi giocato al secondo turno contro camila giorgi e quindi al secondo turno abbiamo un derby italiano tra l'altro partita che si giocherà oggi e che dire bravissima la bronzetti ripeto perché comunque era sotto di un set 6 4 al primo per la per la giocatrice australiana di origine di origini serbe e fidanzata ragazza di matteo berrettini ricordiamolo anzi nel primo parziale era comunque avanti 3 a 1 poi si fa contro breccare break per la tom lianovic che quindi porterà a casa il primo set il secondo parziale inizia male comunque per la bronzetti che subito deve annullare quattro palle break ma alla quinta cade e quindi perde il servizio però poi reagisce subito e questa è una caratteristica insomma che già ha mostrato in altri match il fatto di saper reagire poi comunque perché in generale questa vittoria è importante perché nell'ultimo periodo non è che sia stata poi poi brillantissima tra i tornei messicani anche la settimana scorsa insomma non è che che abbia ottenuto buoni risultati per le sue caratteristiche e per le sue potenzialità quindi questa vittoria e questa rimonta serviva come il pane anche e soprattutto a livello morale quindi uno pari nel secondo set poi si ritorna un serve fino a tre pari lì c'è il break per tom lianovic che che sfrutta la terza palla break del game poi contro break ancora una volta da parte dei bronzetti perciò prima ho detto anche per quanto riguarda la tom lianovic alti e bassi cioè spesso non riesce a concretizzare poi 5 a 4 per bronzetti che deve annullare due palle break quindi nella parte centrale del secondo set praticamente abbiamo una battaglia 5 pari 6 a 5 per lucia 6 pari e si va quindi al tie break lì aveva iniziato comunque molto meglio tom lianovic due errori gravi da parte di bronzetti che è sotto 5 a 2 quindi deve tenere necessariamente i due propri turni di servizio per sperare di portare avanti insomma il tie break lo fa molto brillantemente poi la tom lianovic perde la battuta giocando già qui molto contratta tiene quella successiva e quindi va a match point siamo 6 5 per la tom lianovic quindi match point ma battuta ma servizio per per lucia bronzetti che tiene benissimo tiene benissimo ma aggredendo l'avversaria quello che non fa la tom lianovic che invece è attendista aspetta quasi l'errore dell'avversaria ma se l'avversaria è carica fino a quel punto cioè fino al punto da da aggrediti in quel modo con il dritto con il rovescio cerca gli angoli bronzetti alla fine cioè almeno che non sbagli l'avversaria comunque tu non lo vinci il punto bronzetti non sbaglia e tom lianovic perde i punti quindi si va a set point per bronzetti ma su servizio di tom lianovic quindi siamo 7 6 per lucia bronzetti e servizio tom lianovic qui veramente l'ultimo punto con un rovescio sparacchiato fuori è la dimostrazione che tom lianovic è capace di giocare bene fino ad un certo punto tirar fuori degli ottimi colpi ma anche spegnersi all'improvviso a livello di testa perché è un problema psicologico cioè che che la perseguita secondo me quindi lucia vince il secondo il secondo set parte molto bene all'inizio subito con un break e fondamentale è stato il secondo game del terzo set perché comunque deve annullare quattro palle break ma tiene il servizio poi a centro set più o meno quindi al quinto game c'è un altro break subito però per lucia però subito c'è limitata risposta da parte di tom lianovic che si porta quindi 4 a 2 o meglio 2 a 4 sotto e servizio quindi ha la possibilità comunque di rimanere di rimanere pressoché agganciata all'avversaria però lì break a zero da parte di lucia bronzetti che si porta 5 a 2 e lì la partita finisce perché poi game successivo dominato da dall'italiana quindi terzo set 6 2 e incontro chiuso e quindi bronzetti affronterà il secondo turno camila giorgi e questa partita cioè se giorgi è in giornata è capace di vincere contro chiunque quindi è favorita ma poco poco giorgi non è in giornata e bronzetti comunque lo è può benissimo vincere lucia bronzetti quindi speriamo bene sotto cioè speriamo bene comunque un'italiana scusate tra l'altro un piccolo problema comunque un'italiana andrà al terzo turno quindi ai sedicesimi di finale e già questa è una buona cosa poi ditemi magari qui sotto nei commenti se sarebbe stato meglio avere due match separati con delle italiane quindi la possibilità di portarne due oppure assicurarsi comunque un posto nei sedicesimi con una delle due poi oggi diciamo che iniziano a giocare anche i pezzi da 90 quindi bencic sabalenka carolina priscova pliscova muguruza sviontek non lo so se giochi sinceramente forse no vabbè comunque iniziano le partite toste quelle che contano veramente e bene così quindi per quanto riguarda lucia per quanto riguarda gli uomini invece sono iniziati ovviamente i match di main draw di tabellone principale e oggi giocherà il primo italiano impegnato nel tabellone principale dell'ATP 1000 di Miami ossia Lorenzo Musetti che affronterà Popirin una partita particolare una partita particolare scusate il gioco di parole perché comunque Popirin era stato sconfitto da Musetti la settimana scorsa nel challenger di Phoenix 2-7-0 abbastanza agevolmente però ogni partita è a sé quindi non basatevi troppo su quel risultato quindi vedremo cosa riuscirà a fare Musetti sarebbe veramente importante vincere e chi sopra avanzerà insomma chi avanzerà fra i due chi vincerà andrà ad affrontare Marin Cilic e poi è stato definito anche l'avversario di Sonico che sarà Kudla quello di Berrettini che sarà Juan Manuel Serundolo e quello di Sinner che sarà Rusuori già l'anno scorso a Miami si era giocato un Sinner Rusuori quindi speriamo bene e vediamo cosa succede quindi che dire iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti al prossimo video e Forza Azzurri